ultima ora edifici pericolanti a pesaro evacuata una palazzina con nove famiglie sisma a fano calcolati 30 milioni di euro di danni tari a pesaro le famiglie esentate chiedono chiarezza cambio alla guardia di finanza saluta blandini si insedia a brucato domani a pesaro gli stati generali del turismo telegiornale di giovedì 17 novembre buona serata ben ritrovati su rossini tv canale 80 siamo a nove giorni dalla prima forte scossa di terremoto e i controlli sulla stabilità degli edifici continuano a rilevare problemi nelle ultime ore a pesaro è stata infatti evacuata una palazzina con ben nove famiglie vediamo tutto in questo primo servizio a nove giorni dalla prima scossa di terremoto continuano le verifiche dei vigili del fuoco e di pari passo emergono edifici dichiarati inagibili o da sgomberare in via precauzionale è il caso di una palazzina di pesaro in via del maino piccola strada ma d'alta densità abitativa collocata in zona centromare fra ferrovia e torrente genica qui al civico 21 le verifiche approfondite dei vigili del fuoco hanno portato oggi ad un'ordinanza di sgombero precauzionale dell'edificio condominiale che ospita ben nove famiglie un'evacuazione che mette alla porta un cospicuo numero di persone analogo a quello effettuato domenica da via della robbia dove si stanno velocizzando le operazioni di rimozione della ciminiera pericolante per consentire il rientro in casa delle famiglie attualmente ospitati in albergo in via del maino 21 i residenti hanno fatto segnalazione all'amministratore di condominio delle crepe rilevate dopo le scosse di terremoto ed è scattata la verifica approfondita dei vigili del fuoco da cui l'evacuazione con la polizia municipale oggi intenta liberare l'area di sosta da transennare e anche l'ambulanza allertata per accompagnare fuori di casa novantenni presenti nella struttura sono stati chiamati i vigili del fuoco che hanno rilevato delle crepe importanti strutturali e quindi dopo aver chiamato anche l'ingegnere ci hanno ordinato senza attesa di dovere evacuare siamo nove famiglie dove ci sono anche due persone anziane di 93 94 anni e tutti stiamo trovando un'altra sistemazione in un primo momento siccome avevamo sentito che le persone in via luca della robbia erano state portate in un albergo pensavamo all'albergo fosse la soluzione ideale invece hanno proposto delle suore in via strada delle marche adesso io personalmente mi appoggerò da mia mamma nella mia famiglia però ci sono tre o quattro famiglie che si stanno dirigendo dall'isore momenti difficili per i residenti che da un giorno all'altro si trovano costretti a dover scegliere quali cose prendere e quali lasciare nell'incertezza di quando rientrare decisioni da prendere in fretta la prima cosa ho pensato ai libri dei ragazzi e poi agli sport perché loro comunque devono continuare la loro vita qualche maglione le divise adesso comunque i vicini del fuoco ci hanno detto che tra sabato e domenica probabilmente anche domattina ci apriranno adesso mettono i sigilli hanno tolto gas e luce poi ci riapriranno per la possibilità di prelevare cose più ingombranti anche perché c'è chi ha i gatti c'è chi ha gli animali e quindi dobbiamo correre rispetto al caso di via della robbia in via del maino non sembra necessario il ricorso a struttura alberghiere per ospitare le famiglie sfollate la maggior parte degli evacuati sta trovando accoglienza da amici e parenti mentre due nuclei familiari andranno appunto in strada delle marche in una struttura gestita da città della gioia ora si attendono verifiche ulteriori con la perizia tecnica che valuterà l'entità della problematica di stabilità va da sé che i residenti incrociano le dita sul fatto che si sia trattato solo di un eccesso di precauzione dai danni del sisma a pesaro passiamo a quelli di fano città ancora più vicina all'epicentro del terremoto che ha stimato danni per oltre 30 milioni di euro e quanto affermato oggi dal sindaco massimo seri dopo la ricognizione effettuata dagli uffici tecnici comunali a fano particolare attenzione è stata dedicata agli edifici scolastici che hanno subito problematiche non strutturali su tutte le scuole dell'infanzia a scatola magica albero azzurro collodi tombari e luigi rossi interventi di monitoraggio anche nella scuola nuti rodari e padalino in tutto sono stati 140 gli edifici pubblici esaminati e sono state dichiarate inagibili due abitazioni oltre alla chiesa di ronco sambaccio 7 milioni di euro invece è la richiesta della provincia relativa ai costi necessari al ripristino dei danni del terremoto nelle scuole superiori la stima è stata trasmessa da una lettera del presidente giuseppe paolini inviata alla regione e all'ufficio scolastico regionale le risultanze dei controlli eseguiti non hanno evidenziato fortunatamente danni tali da pregiudicare la staticità dei 37 edifici scolastici ma c'è stato un diffuso peggioramento delle criticità già esistenti le necessità maggiori a cui sarebbero destinati questi 7 milioni sono l'istituto volta e l'ex carducci di fano e il liceo mengaroni e l'alberghiero santa marta di pesaro cambiamo argomento perché ieri a pesaro è scaduta la terza rata di pagamento della tari rata alla quale 2600 famiglie sono state esentate beneficiando del fondo anticrisi del comune dopo l'agevolazione però serpeggiata una mancanza di comunicazione che ha allarmato tutti i cittadini come ci viene riferito in questo prossimo servizio dal consigliere comunale di forza italia michele redaelli ieri 16 novembre è scaduta la terza rata della tari delle comune di pesaro ma ci sono tanti dubbi su chi è esentato da questo pagamento dubbi che sono arrivati in forma di segnalazione anche a diversi consiglieri comunali tra i quali il nostro michele redaelli si esatto è proprio così sul tema del bonus tari c'è tanta confusione chiediamo che l'amministrazione aiuti le famiglie nella chiarezza che spieghi chiaramente cosa cosa ha diritto ciascuna famiglia che ha fatto la richiesta in questi giorni ma in realtà è almeno un mese che sia io che diversi consiglieri tra cui anche la collega Giulia Marchionni riceviamo tante telefonate di famiglie che chiedono informazioni che non riescono ad avere o non riescono ad avere in modo esauriente entro il 30 settembre bisognava presentare i moduli per la richiesta di questo contributo che è un contributo positivo per cui siamo contenti però poi le famiglie non hanno saputo più nulla nel frattempo è arrivata la seconda rata della tari la terza ieri e le famiglie non hanno pagato seguendo peristocuamente le indicazioni date dal comune e ora però si trovano il dubbio di dire non ho pagato sarò o non sarò in graduatoria avrò o non avrò diritto e al al bonus che il comune in qualche modo ha promesso dovrò addirittura trovarmi ad essere moroso quindi dover pagare una sovratassa e per non aver pagato nelle date delle scadenze previste come funzionerà ecco per fugare tutti questi dubbi che le persone hanno in buona fede avendo seguito quello che il comune ha detto chiediamo che l'amministrazione faccia chiarezza qualche informazione sta uscendo ma ancora frammentarie l'amministrazione ha i contatti di tutte queste persone che sono anche parecchie però con una mail con insomma in qualche modo dicano chiaramente cosa queste persone hanno diritto siamo in una situazione con un autunno complicato di tante incertezze lavorative di rincari dei prezzi questa che è una bella iniziativa rischia di diventare un'iniziativa che porta a confusione portiamo chiarezza diciamo chi ha diritto a cosa e aiutiamo le famiglie anche in questo caso manca diciamo un feedback di ritorno nel senso come sono arrivati i bollettini delatari dovrebbe arrivare una certificazione di esenzione esattamente l'unica cosa che hanno avuto le famiglie è la ricevuta del protocollo di quando hanno sottoposto la richiesta la domanda poi non è successo più niente anche la stessa pagina del sito del comune non è più stata aggiornata i cittadini chiamano in comune le risposte che hanno sì sono di rassicurazioni però non trovando niente scritto nero su bianco mentre il bollettino per il pagamento delle rate arriva e poi le persone si fanno domande e chiedono giustamente che l'amministrazione possa rispondere le immagini che vi mostriamo in questo momento arrivano dalla caserma della guardia di finanza di pesaro dove questa mattina si è tenuta la cerimonia del passaggio di consegne al comando delle fiamme gialle pesaresi il colonnello enrico blandini ha salutato pesaro dopo oltre due anni al vertice dei finanzieri della provincia al suo posto si è insediato il nuovo comandante paolo brucato trapanese di erice brucato proviene dall'argentina dove ha svolto l'incarico di esperto della guardia di finanza presso l'ambasciata d'italia a buenos aires la cerimonia si è tenuta la presenza del comandante regionale della guardia di finanza alessandro barbera dopo 28 anni davide ipaso non è più il segretario della conf commercio di pesaro ai nostri microfoni ha spiegato le motivazioni di questa scelta e i progetti futuri in questa settimana i primi giorni dopo 28 anni alla guida della segreteria di conf commercio pesaro di davide ipaso fuori dalla conf commercio una scelta consapevole e motivata da cosa è una scelta consapevole è una scelta nata da mesi di pensieri specialmente dopo la morte dei miei due genitori che mi hanno sicuramente modificato la visione della vita do più valore a determinati valori cosa che purtroppo è venuta a mancare per certi versi e quindi ho deciso a malincuore di lasciare la mia seconda famiglia la mia seconda pelle 28 anni di vita vissuta con commercio io ero un uomo con commercio mi sentivo tale in questo momento questi stimoli sono venuti meno e io ho deciso di abbandonare la barca che in buone mani ho bisogno di ritrovare io l'adrenalina e la voglia di rimettermi in gioco tutte le mattine guardando indietro ai 28 anni qual è la gratificazione maggiore che sente la marea di messaggi che ho ricevuto la marea di telefonate che ho ricevuto e tante proposte di lavoro che mi sono state fatte quindi secondo me vuol dire che il lavoro che ho fatto fuori sul territorio pesarese e non solo è stato fatto nel giusto modo mi sento in pace con me stesso quindi credo di avere fatto una scelta consapevole e serena e invece guardando avanti ai prossimi 28 anni 28 anni vuol dire che andrà in pensione fra 28 anni no io spero di fare gli ultimi dieci anni per arrivare alla pensione nel miglior modo possibile mi piacerebbe rimanere nel sistema perché è quello di cui io sono competente e la mia professionalità è nata grazie anche al direttore varotti perché mi ha insegnato tanto in questi 28 anni e vorrei rimettere questa esperienza in mano qualcun altro dandogli una mano per per creare nuove sinergie nuovo sistema all'interno delle piccole medie imprese del territorio e come ha detto sono già arrivate delle proposte l'associazionismo è quello è il settore con cui intendi concludere la tua carriera beh sicuramente io non se mi dicessero che devo andare a fare l'inbianchino o il general manager di un'industria non sarei in grado io so che cosa so fare lo so fare bene e non mi invento a 57 anni non sono in grado ho visto anche le difficoltà che c'ho nel mondo virtuale per mettermi con nuovi sistemi di software e allora preferisco lavorare ancora sul sul territorio per strada in mezzo ai miei operatori miei commercianti e quegli amici che si sono quelle amicizie che si sono create in 28 anni c'è poi tanto radicamento nella città che a volte fa pensare anche ad allusioni verso la politica beh le allusioni politiche i due assessori che mi hanno chiamato la prima domanda mi ha detto allora come va come non va ma per caso rientri in politica in questo momento devo essere sincero non ho alcuna intenzione poi la vita riserva delle sorprese in futuro non lo so se ci sono se ci se non ci sono sono in pace sempre con me stesso quindi vedremo e valuteremo al momento da conf commercio passiamo a conf industria associazione di categoria pesarese che martedì 22 novembre ospiterà un convegno d'approfondimento dedicato alle missioni commerciali all'estero in scenari internazionali incerti un appuntamento che ci viene illustrato da daniele prioli di geocom italia società che ha promosso questo appuntamento martedì 22 novembre geocom italia nei locali della confindustria peso rubino alle 17 organizza un importante appuntamento si intitola intelligence e business all'estero come muoversi in sicurezza i mercati a rischio con daniele prioli di geocom andiamo a capire le motivazioni che guidano alla organizzazione di questo incontro un appuntamento importante che vede confindustria pesaro protagonista sul territorio con ospite il generale mori già fondatore delle ros e del direttore generale del sisde che illustrerà le tematiche relative all'organizzazione delle missioni commerciali all'estero in sicurezza un tema estremamente interessante di attualità sicuramente anche alla luce dei recenti accadimenti internazionali si tratta di provare diciamo a munire di una sorta di manuale di istruzioni su come muoversi appunto in questi mercati a rischio parleremo di impresa e soprattutto di come organizzare in sicurezza una missione commerciale all'estero quindi forti dell'esperienza anche del colonnello de donno che ha al suo attivo diversi scenari internazionali di carattere operativo dove vengono analizzati in dettaglio proprio le caratteristiche di come gestire in sicurezza una missione commerciale un aspetto particolarmente importante per quanto attiene la responsabilità di impresa e dell'imprenditore grande successo e partecipazione ieri sera all'hotel nautilus dove i due lions club di pesaro host e della rovere hanno tenuto una conviviale per dibattere sui temi di pesaro capitale della cultura 2024 i due club si sono messi a disposizione del territorio per eventuali iniziative culturali da realizzarsi per questa importante opportunità di grande rilievo le relazioni dopo i saluti dell'assessore pozzi di cristian della chiara sui progetti del roff dell'avvocato salvatore giordano sul conservatorio rossini di brunella paolini sul nuovo museo oliveriano di pesaro segreta e degli amici della lirica e pesaro capitale della cultura sarà uno dei temi al centro degli stati generali del turismo che si terranno domani a pesaro stakeholders enti associazioni di categoria mondo dell'imprenditoria dell'arte della cultura si daranno appuntamento domani alle 14 30 al workspace della chiara di case bruciate per analizzare i dati del comparto proporre strategie condivise ascoltare le relazioni dei professionisti del settore lavorare ai tavoli tematici che ruoteranno attorno al tema chiave di pesaro capitale italiana della cultura 2024 sindaco e vice sindaco matteo ricci e daniele vimini apriranno lavori che prevedono poi gli interventi di mario romanelli marco bruschini cristiano varotti agostino ritano con l'inizio del nuovo anno accademico il conservatorio rossini riprende la propria attività concertistica con il primo evento dal titolo spazio lens solari a 1 che si terrà nella sala marmi di palazzo olivieri sabato 19 novembre alle ore 18 il concerto inaugura la rassegna concerti informali di musica elettronica organizzata dalla scuola di musica elettronica una rassegna che prevede un ciclo di cinque appuntamenti a cadenza bimestrale in cui docenti e studenti saranno coinvolti nella realizzazione di tutto l'evento questo weekend la compagnia piccola ribalta di pesaro debutta con un adattamento teatrale di un romanzo dell'autore pesarese paolo pagnini si tratta di una coinvolgente affascinante prima assoluta nella sede della compagnia di via dell'acquedotto in programma sabato 19 novembre alle 21 e domenica 20 novembre alle 17 lo spettacolo si intitola il gioco più bello del mondo ed è dal romanzo polifonico dell'ultima vita di paolo pagnini una storia dai cenni autobiografici che lo stesso autore ha chiesto alla piccola ribalta di tradurre in rappresentazione teatrale la drammaturgia è di valentina earn show e la regia di bisser genga e concludiamo il nostro telegiornale con lo sport perché domani torna in campo a pesaro little service che dopo aver ritrovato la vittoria cerca continuità di risultato davanti al pubblico del palafiera altri tre punti per dare continuità questo il concetto che little service pesaro ha ben in mente preparandosi alla sfida di venerdì 18 novembre delle 20 e 30 al palafiera di campanara dove ad attenderli ci sarà il ciampino a niene quella continuità che da inizio stagione per la squadra di colini non è ancora arrivata ma se il buongiorno si vede dal mattino proprio quando l'allenatore romano è tornato a sedersi sulla panchina dopo i tre turni in disqualifica la sua squadra è tornata alla vittoria dopo cinque giornate ed è proprio dall'otto a due messo a segno dall'ital service domenica scorsa sul campo del pistoia che deve proseguire il cammino dei biancorossi verso la risalita in classifica una rimonta non impossibile considerando che i playoff distano ora solamente due punti e che i cocci persi nelle prime giornate di campionato adesso si stanno riassemblando ritrovate due pedine importanti come canale dal cin i biancorossi stanno aspettando il recupero del capitano toni dandel joao miguel e fortini alle prese con infortuni concentrandoci sugli avversari il ciampino a niene non arriva da un buon momento di forma tre le sconfitte nelle ultime quattro partite per i laziali che si presentano all'appuntamento di venerdì con quattro punti in piena zona retrocessione sembra dunque tutto apparecchiato per un'altra serata di grande tifo al pala campanara dove per l'occasione la società biancorossa ha informato che tutti i supporter presenti per l'occasione potranno acquistare la nuova maglietta da gioco dell'ital service in promozione al costo di 45 euro anziché 55 oltre a questa novità venerdì è prevista anche un'attesa visita la società fenix ischia che ha sposato il progetto affiliazioni lanciato in estate dall'ital service sarà presente al palafiera per tifare i biancorossi ma non solo perché sabato ci sarà una giornata dedicata a loro dove i giocatori della società affiliata avranno la possibilità di allenarsi seguite dallo staff tecnico di pesaro poi nel pomeriggio andrà in scena un torneo tra i tal service fenix ischia e grottaccia altra società affiliata a pesaro dal calcio a 5 alla pala canestro con l'ital service loreto basket che fa un plane infilando la sesta vittoria su sei gare disputate 83 a 44 a favore dei gialloblu che dominano sul parquet tradizionalmente ossico dell'atomica spoleto loreto basket che non si accontenta perché per restare in vetta occorre ottenere il massimo anche dalla prossima partita che vedrà gli uomini di coach foglietta scendere in campo alla palestra di baia flaminia contro la mac system urbagna sabato 19 novembre alle ore 18 siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale questa sera nella nostra prima serata alle 21 e 20 non ci sarà insieme a canestro che tornerà giovedì della prossima settimana quindi giovedì 24 novembre sempre con il nostro marco cadè due tutti gli ospiti della carpegna prosciutto basket pesaro ma questa sera accogliamo l'occasione di farvi vedere la presentazione di questo nuovo store nuovo negozio scavolini a pesaro c'è stata l'inaugurazione proprio pochi giorni fa e noi questa sera vi raccontiamo tutto quello che è accaduto domani la nostra rassegna stampa condotta come di consueto il venerdì dal nostro giornalista daniele sacchi vi aspettiamo quindi alle 7 e 20 e poi domani che è venerdì torna una nuova puntata di spazio z i racconti della generazione z la nostra letizia andrà a intervistare i ragazzi del liceo artistico mengaroni in questa prima puntata dedicata a questo istituto quindi vi aspettiamo domani alle ore 19 in replica le 23 e potete segnarvi anche tutte le repliche fino al mercoledì della prossima settimana grazie mille per averci seguito e buona serata a tutti